Ci tenevo a dirvi prima di tutto una cosa, quando ho conosciuto Antonio ho conosciuto una persona che veniva dal mondo e viene dal mondo dell'impresa e la cosa che gli ho detto quando mi ha detto ma allora facciamo un po' di campagna insieme, io ovviamente sostengo i nostri candidati e sostengo un candidato come Antonio che per me è una persona concreta proprio perché viene da questo mondo, io ho detto sì, però non è che ci facciamo una campagna andandoci a vedere i guai della Basilicata, io voglio raccontare all'Italia portando con me le telecamere, le cose belle di questa regione e soprattutto le imprese belle di questa regione, non abbiamo voluto visitarle tutte perché mi scuserete tutti se non ci sono stato abbastanza in questi mesi, ma come dicevamo dobbiamo fare il nostro lavoro a Roma come Ministri e c'è tanto da fare, però voglio dirvi che le aziende che ho conosciuto, le realtà produttive, i professionisti, i lavoratori autonomi, i loro collaboratori, i loro manager, i loro dipendenti, i loro lavoratori, sono persone che ogni giorno producono eccellenze in questa regione e le esportano fuori dalla regione e lo fanno e lo sapete meglio di me, quindi parlo di cose che voi conoscete meglio di me, lo fanno con un livello di difficoltà che è 10 volte superiore anche solo alle regioni limitrofe. In questi giorni ho visitato con Antonio aziende che esportano il 90% di quello che producono e stanno facendo importanti partnership con l'est del mondo, perché chi produce made in Italy, artigianato, eccellenze agroalimentari sa che l'export aumenterà, le esportazioni aumenteranno se guardiamo verso l'est, cioè economie emergenti che stanno creando un nuovo ceto medio a ritmo di decine di milioni di nuovi cittadini benestanti. Ora io sabato firmerò questo accordo come Ministro dello Sviluppo Economico, ci abbiamo lavorato sei mesi, due viaggi in Cina, che si chiama Via della Seta, la Via della Seta sancisce un principio, che finalmente portiamo il Made in Italy in Cina e non più il Made in China in Italia e questo significa che nei prossimi mesi avremo nuove opportunità, alcune già si sono sbloccate, per esempio tutto il comparto agrumicolo e delle carni, firmiamo sabato un accordo che permette di portare in Cina per via aerea, prima si poteva portare solo via nave, non si poteva portare perché se tu vuoi portare gli agrumi in Cina via nave o le carni in Cina via nave di certo non arrivano carni o agrumi freschi e lo stesso obiettivo ce lo poniamo per tutto il comparto artigianale, meccanico e anche della farmaceutica perché anche lì sta nascendo un nuovo mercato che è la cura degli anziani, con la quale loro guardano all'Italia perché l'Italia è eccellenza in questo settore, meccanismi di cura, la sanità, allora io non vi sto dicendo che con la Cina risolveremo tutti i problemi, anzi, io vi sto dicendo che non sto guardando solo a quel Paese, come Ministro responsabile per il commercio estero, perché il Ministero dello Sviluppo Economico è anche il Ministero del Commercio Estero, stiamo guardando a tutte le nuove economie emergenti e questo non significa, permettetemi di andare contro gli Stati Uniti, noi siamo alleati degli Stati Uniti, stiamo nella Nato, io ci andrò la settimana prossima negli Stati Uniti a parlare con i nostri alleati, ma l'Italia come è alleata di un Paese come gli Stati Uniti che ha detto America first, deve avere il coraggio di dire Italia first e italiani first nei lavori di impresa e negli obiettivi che ci diamo sulle nostre imprese, non è solo con le esportazioni che possiamo rimettere in piedi le nostre aziende del sud, aziende che se in Italia essere imprenditori e essere eroi, al sud è supereroi, in Basilicata è veramente capitano America, ogni volta che si è provato a semplificare qualcosa in Italia si complicavano le cose, allora ci siamo dati un metodo che verrà rispettato in questo primo decreto, chiamiamolo sblocca cantieri, ma che riguarda anche le attività private, invece di aggiungere norme si sottraggono norme, sia al codice degli appalti, sia a tutte le norme sulla pubblica amministrazione, che significa? Significa che nel caso di alcuni cantieri che stiamo per aprire in Basilicata con gli investimenti di 13 miliardi di Euro nel dissesto idrogeologico, che è solo una parte dei cantieri, passiamo da 3 anni di procedure per aprirsi a 18 mesi e questo ce lo certificherà il Ministero dei Trasporti, qualcuno dirà ma così state attentando alle norme anticorruzione, io condivido pienamente quello che sta dicendo l'autorità nazionale anticorruzione, infatti non toccheremo quelle norme che girano sui giornali, però dobbiamo dirci una cosa, noi una legge anticorruzione a dicembre che dà più poteri alle forze dell'ordine l'abbiamo fatta, abbiamo messo in mano la Guardia di Finanza la possibilità addirittura di controllare le transazioni sui conti correnti, io so che questa regione ha vissuto tanti scandali e tanti problemi, però quelli ormai possono far parte del passato, decidete voi che cosa deve succedere domenica, io dico soltanto che la sanità è un territorio inaccessibile per il Governo centrale, è veramente complicato, ve lo dico, noi nominiamo i commissari dal Governo centrale per rimettere a posto le sanità regionali e a livello regionale ci nominano i direttori sotto per fare la guerra ai commissari che mandiamo, questo meccanismo è stato in qualche modo sperimentato in Calabria, è stato sperimentato in Molise, quello in Molise si è dovuto comprare addirittura una stufa, neanche gli scaldamenti li hanno fatto trovare quando è arrivato lì nel suo ufficio, ma è una cosa che non attiene alle competenze costituzionali, perché noi non è che vogliamo commissariare le regioni, vogliamo semplicemente far andare un po' meglio la sanità, attiene al fatto che il 90% di un bilancio regionale è sanità e quindi lo sapete meglio di me, al di là delle questioni politiche, è un bancomat e questo bancomat non è che se lo mettiamo in mano ad un'altra forza politica per il sol fatto che ci sono Luigi Di Maia e Antonio Mattia cambiano le cose, no, devono cambiare le procedure interne, soprattutto di selezione dei dirigenti, che se dipenderanno sempre dalle nomine politiche regionali non ne usciremo. Sono sei mesi che proviamo a spingere come Governo centrale per fare un accordo Stato-Regioni sulle nomine dei dirigenti e dei primari, in modo tale che possano essere concorsuali, non perché i concorsi sono la panacea di tutti i mali, ma sicuramente sganciamo un po' di più la probabilità che chi sta a capo di quella ASL sia legata all'assessore della sanità al Presidente di Regione, ma è complicato, è complicato perché la sanità è una competenza esclusivamente regionale. Io sono qui con Antonio, sto spingendo con lui i temi che vogliamo portare avanti per la Basilicata perché so che lui in questi mesi ha già fatto dei passi avanti per il Movimento Lucano, creando già la squadra degli assessori, parlando soprattutto con le imprese che possiamo dirci che in passato, non in questa regione in generale, non hanno proprio rappresentato la nostra zona di comfort, non ci abbiamo parlato abbastanza e quindi in alcuni casi sembravamo addirittura anti-impresa. Io spero da Ministro dello Sviluppo Economico di portare avanti tutte quelle iniziative che possono servire ad aiutare il vero motore che dà lavoro in Italia, che sono gli imprenditori. Ce la metteremo tutta e ci tengo anche a dire che al di là di come andrà domenica, contate su di noi, contate su di me e io sono a vostra disposizione come Ministro e come Capo Politico del Movimento 5 Stelle. Grazie.